Numerose anche nella giornata di ieri le guarigioni registrate a Torre del Greco. Sono 98 le persone che hanno sconfitto il virus. Comunicati anche 49 casi di positività al Covid-19, tutti i posti in isolamento domiciliare. Attestato inoltre un decesso di un soggetto classe 1962. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 695 i soggetti positivi, di cui 25 ospedalizzati, 1.322 guariti e 45 decessi. A Castellammare di Stabbia aumentano i tamponi e si abbassa il rapporto con i positivi in percentuale. Sono 44 i cittadini risultati positivi al virus, di cui 6 presentano sintomi lievi. Tra i nuovi contagiati accertati due ragazzi di 9 e 17 anni, ma soprattutto cittadini di età avanzata. Sono 6 i soggetti anziani tra gli 84 e i 93 anni. Si registrano inoltre 23 nuovi guarigioni. Sale dunque il numero dei contagiati a Castellammare, che conta 1.474 attuali positivi. Il numero dei guariti supera quello dei contagiati nella città di Torre Annunziata. Sono 31 i nuovi casi di contagio e 41 le guarigioni nelle ultime 48 ore. Continua dunque a diminuire il numero dei positivi nella città. Sono 338 i cittadini attualmente positivi, di cui 324 posti in isolamento domiciliare e 14 ricoverati. Sale a 1096 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 737 guarite e 21 decedute.